buonasera utenti di youtube da narratore italiano da porfo 90 oggi vogliamo parlare insieme all'amico porfo 90 dell'argomento che la diamo a questo governo il governo conte e io dico che questo governo a me piace molto perché è un governo che punta a fare le cose e soprattutto vuole far sì che la legge venga rispettata e soprattutto mette al centro degli interessi noi italiani cioè per il governo conte l'italia o meglio gli italiani vengono prima degli altri e questa è una politica giusta e corretta che a me piace molto di questo governo mi piace anche il fatto che ci sono delle buone prospettive per chi è disoccupato infatti dovrebbe essere istituito il reddito di cittadinanza dovrebbero essere messo in atto anche una politica che va a favore degli anziani di chi non ha una pensione molto elevata e tutte quante le altre misure che vanno a potenziare il mondo del lavoro quindi questo governo per me è promosso lo accetto mi piace l'alleanza al momento 5 stile lega anche se all'inizio era un po' scettico ora non ho più scetticismi ma lo accetto bene volentieri prego porfo brevemente anche io non posso che esprimere pareri positivi su questi primi mesi di governo devo dire che il governo finora si sta dimostrando abbastanza sufficiente o quantomeno sta facendo vedere a differenza dei governi precedenti di impegnarsi seriamente a risolvere i problemi concreti dell'italia come l'immigrazione che è un tema su cui sono dibattito molto e soprattutto sul fatto di come dicevi prima di dare la priorità agli italiani che è un principio secondo me scontato ma purtroppo negli ultimi tempi non lo era diventato più scontato gli interessi degli italiani sembravano essere messi sempre in secondo piano adesso questo governo sembra che stia cambiando un po' le carte in tavola mi sta convincendo anche abbastanza anche le politiche sul lavoro sull'occupazione del ministro di maio che mi auguro che possano portare frutti positivi possono aiutare tante persone in difficoltà e anche se la cosa che io mi aspetto mi aspetto perché era stata promessa e ancora non è stata fatta è l'abolizione della legge fornero quindi una revisione completa anzi un medio abolizione proprio di questa legge che ha devastato veramente tanti pensionati e ha condannato i giovani a un futuro incerto quindi mi auguro che venga rivista anche quella è una mia opinione questa e per il resto molte cose che ha fatto sono le condivido e soprattutto il presidente Conte mi piace anche come persona perché dimostra essere una persona colta semplice umile e attenta agli sogni della gente quindi non posso che esprimere pareri positivi anche su di lui bene grazie caro Porto Provanta iscrivetevi al canale suo commentate datevi la vostra opinione un saluto e una buona giornata uscirata da Pattenia e da Porto Molantra salve a tutti